È certamente una settimana importante per l'Italia, con l'influsso dei trimestrali che ha raggiunto il suo picco massimo. Cercheremo così di fare il punto sull'andamento dei conti del quarto trimestre per le principali corporate del Fuzzi Mib, con le banche che sono state ancora una volta protagoniste. Valuteremo quindi come la recessione economica di fine 2018 e i timori sulla crescita del 2019 possono impattare sull'outlook e sulla revisione dei target delle aziende italiane. Per le banche, infine, la tensione rimane altissima dato che da un lato risentono dell'andamento dei BTP e quindi delle tensioni politiche del nostro Paese. Dall'altro sono soggette alle pressioni da parte della Banca Centrale Europea sul tema dei no performing loans, oltre che ai timori sulle aspettative del rialzo dei tassi di interesse che compromette il margine di intermediazione.